Altri platani sono stati tagliati ieri in piazza Mendola a Battipaglia. Dopo l'abbattimento di alcuni fusti in estate, i tecnici del settore pubblico in Colomità hanno deciso di tagliare altri alberi ammalati e marci dopo il cedimento di un ramo molto grande. Tale decisione, spiega l'assessore all'ambiente Stefania Vecchio, è apparsa inevitabile per scongiurare il verificarsi di altri episodi analoghi. L'assessore assicura inoltre che nuovi alberi verranno piantati al posto di quelli rimossi. Non sono mancate tuttavia le proteste sui social network, dove qualcuno ha ironizzato sul nome di Battipaglia, convertito in Abbattipaglia.